La parola Tonino ai nostri condutori, quindi a Fabio e a Luciana Qui non c'è che cantina, non si frumo, ma succede comunque di tutto, quindi questo perlomeno è garantito Fabio, prima Luciana, la signora Prima te, perché così la smetti di telefonare e di mandare il twitter, mi sembra di essere a scuola La professoressa te l'avrei già ritirato, anche a Leone Non so se avete sentito se ti hai messo il papa Appena appena E adesso io propongo farsi come camerengo Allora, naturalmente insomma ci fa piacere, come ho detto più o meno in questi giorni La televisione della radio, corredato tutto da foto storiche del festival E dire complimenti ai colleghi dell'ufficio stampa che anche quest'anno hanno impreziosito il lavoro con questo contributo Io andrei velocemente al saluto del sindaco Quest'anno il sindaco ha preannunciato un'iniziativa che domani presenterà in maniera più dettagliata Quella del questionario per capire la soddisfazione dei conoscenzi Se non piove E anche Piazza Colombo Quello che abbiamo fatto, abbiamo avuto lo stesso sindaco per quattro anni Quindi questo già mi rinvio di orgoglio Questi quattro anni, ricordo molto bene la prima conferenza stampa E